Iiiiissi, gentlemen! Le mani si alzano al cielo! Comincia così! Il sabato notte è casa di calcia! Torno libero! Buonasera, buonasera a tutti i miei arrivati! Il nostro sabato notte in città! Senti, senti! In questo momento è Gertrude Patris che sono io! Grazie a tutti la tua storia di U.N.U. Proviso che siede in cori! Ladies and gentlemen, buonasera a tutti! Ispiration by Pinardi Star! Dice, vestiti! Di stai! Ci, vestiti! Grazie per la visione!